La vecchia sede della regione Abruzzo in via Lebovio, al pare di quella di via Raffaello, sono ormai abbandonate, degrado, incuria, danno molto fastidio ai residenti e soprattutto agli esercenti di questa zona in termini di mancato guadagno per loro. Potrebbero essere recuperate magari con il comune di Pescara o per qualche sede delle agenzie regionali, così non è. Marsilio nel 2022 con una legge ha promesso di vendere queste due sedi, venderle ai privati, c'è stata anche una modifica che la rende più possibile all'interno della legge urbanistica, ma ad oggi non c'è questo avviso. La promessa era entro dicembre 2023 venderemo questi due palazzi, queste due vecchie sedi e ricaveremo 8,5 milioni di euro che in parte dovevano servire per la realizzazione o quantomeno per la progettazione della nuova sede della regione all'interno dell'area di risulta, su cui noi siamo fermamente contrari, non ci sono stati anche dei ricorsi su questo. Fatto sta che di quell'avviso di vendita non c'è nessuna traccia, siamo arrivati a dicembre 2023 e questa è l'ennesima promessa disattesa da parte di Marsilio. Marsi qualche mese fa diceva entro quattro anni avremo la sede della nuova regione all'interno dell'area di risulta, non c'è ancora neanche il bando per la progettazione, c'è solo la nomina del RUP. Ma io vi voglio far vedere un attimo le condizioni in cui versa questa sede, questa è la sede diciamo in una zona centrale di Pescara, via Lebovio, ma la stessa cosa potremmo dire anche per quanto riguarda via Raffaello, abbandono totale, nulla di nulla e soprattutto i pescaresi che attendono ancora che queste promesse vengano mantenute e così non è.